Buongiorno a tutti, siamo qui a parlare della tradizionale partita o partitella che la Juventus disputa ogni anno tra la prima squadra e la sua seconda squadra. Una volta veniva identificata come Juventus A contro Juventus B, adesso è la Juventus prima squadra contro la Next Gen che da qualche anno partecipa con risultati pessimi al campionato di Serie C. La prima cosa che salta all'occhio di questa partita è che dopo ben oltre 70 anni si è interrotta una tradizione che vedeva disputare questa partita a Villarperosa, feudo storico degli Anichelli. E già non aver proseguito nella continuità della tradizione deve far riflettere su quella che è l'attuale proprietà. Io ho una mia opinione personale che cercherò comunque qui di spiegare ma che non parte da pregiudizi nei confronti di qualcuno, nello specifico dell'attuale proprietario della Juventus, John Elk, hanno detto JJ. Secondo me questo è stato proprio un chiaro segnale a coloro che pensano ancora che la Juventus sia di proprietà della famiglia Agnelli quando ormai il segnale è chiaro, la Juventus non è più della famiglia Agnelli. Da novembre quando si è dimesso Andrea Agnelli, lì è finita l'epopea e la dinastia degli Agnelli alla guida della Juventus e come tale anche al livello in cui la Juventus era mantenuta dalla famiglia Agnelli che ha sempre ritenuto al pari della Ferrari la Juventus un qualcosa che non andasse trattato come una tradizionale azienda ma come un gioiello, un diamante che poi se non portava dei grossi risultati a livello imprenditoriale e economici portava dei grandi risultati a livello di passione, di amore da parte di coloro che sono tanti i rifusi della Juventus, 15 milioni in Italia e 150 nel mondo, che seguono questa squadra e il fatto che comunque la squadra fosse di proprietà degli Agnelli dava a loro una visibilità importante. Alla nuova proprietà non interessa nulla perché come dicono quelli che probabilmente godono di questa situazione della Juventus, loro hanno una visione completamente diversa, come ho già spiegato diverse volte che non ritengono il calcio un settore strategico di investimento e come tale trattano la Juventus come una qualsiasi azienda. Questo l'ho già detto e ripetuto tante volte ma va ribadito semplicemente perché il calcio è un mondo diverso, il calcio è un mondo dove non si entra e non si prende una squadra calcistica per ottenere del lucro ma più che altro per ottenere una visibilità ma soprattutto del gruppo, della famiglia, di coloro che chiaramente sono proprietari di una squadra calcistica perché il calcio è una delle poche aziende in cui il pareggio di bilancio o comunque i conti in ordine non portano trofei. Di solito i trofei li portano coloro che più investono e chiaramente che sono più esposti ma chiaramente sono esposti in relazione poi ai risultati che ottengono perché chiaramente ottenendo dei risultati sportivi si incrementa il merchandising, si incrementa il fatturato. Nello specifico la Juventus è una delle poche società al mondo, pure molto solide perché ha delle proprietà immobiliarie, ha un asset immobiliare fondamentale. Quindi la visione di John Elkart secondo la quale nella Juventus non bisogna investire, anzi bisogna pareggiare i conti per cui significa da un punto di vista puramente economico non investire più, anzi disinvestire cercando addirittura di svendere, io dico di svendere, i migliori, i pezzi migliori, non porterà da nessuna parte perché purtroppo il calcio è andato in una direzione in cui chi più investe più vince. La dimostrazione ce l'ha da il Manchester City che dopo tanti anni di investimenti ha finalmente vinto una Champions, dopo è vinto tanti campionati in Italia ma il Bayern Monaco, Real Madrid, il Barcellona, il Chelsea, il Liverpool, il Manchester United, lo stesso Atletico Madrid stanno a testimoniare quello che dico io. Ora se John Elkart non capisce questo è purtroppo destinato miseramente ad essere odiato dai tifosi per i quali fondamentali sono i risultati sportivi. A parte che il modus operandi di questo signore, e io lo chiamo signore per non dire di peggio, è ignobbile perché il modo in cui ha estromesso completamente la famiglia Agnelli e comunque i pretoriani della famiglia Agnelli a partire da Carciopoli del 2006 è sempre lo stesso. Indagini giudiziarie che poi vengono trasmesse alla giudizia sportiva che poi distrugge la Juventus, sempre con la complicità e il favore di John Elkart, il quale pur di ottenere i propri fini, alla fine distrugge la Juventus e lui il peggior nemico della Juventus. Voi direte ma che cosa sto dicendo? No, è una cosa che ha un senso. Nel 2006 aveva bisogno di eliminare nel vuoto di potere dopo lamento di Umberto Agnelli Giraudo e Moggi che secondo lui stavano dando la scalata azionaria alla Juventus. In realtà quelli avevano e stavano completando un mandato che doveva portare a compimento la grande e la vera grande risorsa della Juventus, ovvero lo stadio di proprietà. Stadio di proprietà che ricordo a tutti fu un'intuizione e un progetto portato avanti e sviluppato da Antonio Giraudo che è stato malamente estromesso da John Elkart unitamente a Luciano Moggi semplicemente perché loro erano all'epoca i predoriani di Umberto Agnelli, del dottor Agnelli. In quella maniera si è preso in mano tutto l'asset immobiliare della Juventus nel senso che comunque lo stadio poi comprendeva tutta una serie di attività commerciali e collaterali che davano dei redditi. Attenzione, la famosa area 12 che è l'area collegata allo stadio della Juventus e che comunque è in uso alla Juventus prevede che tutte le attività commerciali che sono all'interno della struttura e che quindi pagano un canone di locazione o un reddito vada a finire non nelle casse della Juventus che detiene comunque la proprietà o comunque il diritto superficiario di tutta quell'area ma in società costituite ad hoc della Exor per cui già questo aspetto mi fa pensare che il signor Gionelca non è che alla Juventus gli interessasse tanto l'aspetto sportivo quanto l'aspetto economico. Questa è una cosa che sanno in pochi, una cosa che nel Bayern Monaco che ha lo stesso tipo di struttura non avviene perché tutto quello che è legato allo stadio e le attività commerciali al brand del Bayern Monaco va a finire nelle casse e nel bilancio del Bayern Monaco.